Siamo qui per un secondo appuntamento importante che si celebra proprio nella giornata mondiale del corso di sangue, il 14 giugno, ospiti del MIUR per il Dipartimento dello Studente e per il Dipartimento delle Risorse Umane. Un grosso convegno che richiama il discorso della prevenzione, della tutela della salute e poi, ovviamente importante, perché rinnoviamo il protocollo d'intesa Avis-MIUR che ci vede protagonisti e coattori e partners in tutte le scuole d'Italia. È un momento davvero importante in questa giornata particolarmente significativa che vede di nuovo in campo le collaborazioni che ci permettono di dare risposte ad un bisogno nel sociale che è davvero grande. Forse qualche testimonianza di questo bisogno ce l'abbiamo qui a fianco nella figura di Monica. Allora, sono una persona affettata dalla Sonia Maior, quindi dalla mia nascita, trascondo regolarmente ogni 15-18 giorni e quindi sono un chiaro esempio di come l'animazione del sangue sia uno dei gesti più importanti per la vita delle persone come me e io vivo grazie alla solidarietà delle persone che donano il sangue. Donare il sangue è donare l'anima di carne.